se suonano alla porta non aprire sto scrivendo a chi non lo so scrivo lettere lettere che dicono la verità voglio sapere chi è il responsabile e subito no voglio venire con te non puoi impedirmelo non si fermerà succede lo stesso con le macchine un granello di sabbia negli ingranaggi non ferma una macchina ma se una persona comincia a lanciare un po più di sabbia ecco che il motore inizia a perdere colpi nei miei sogni vedo tanta gente che lancia sabbia negli ingranaggi tu sei un romantico otto quangal sono un meccanico sì sei anche quello sei tu la romantica almeno lo eri un tempo lo ero un tempo immagino che nessuno di voi sapientoni si renda veramente conto di quanto l'erciume circoli ancora in città le do due giorni hai idea di che giornata ho passato tutto questo l'abbiamo creato insieme non ci fermeremo aspettiamo raccogliamo informazioni e le mettiamo insieme l'ho avvertita e io avverto lei forse non sa chi sono fermo ognuno di noi è importante